Passiamo ora alla categoria 1000, esattamente la Motorrad Cup, siamo con Massimiliano Trogliani del team Colatosti Corse, allora Massimiliano innanzitutto complimenti perché parti in prima fila con il secondo tempo di 1.42.626, sei distanziato di pochissimi decimi da Alessandro Simoninski che in questo terzo round è il Polman. Allora Massimiliano qui altra bagara con Simoninski, la Motorrad Cup diventa cosa vostra privata ma certo anche Bottagli e Scalzone e Blora non sono molto distanti. No no stiamo tutti là, stiamo tutti là vicino, con Simoninski sicuramente in gara ci sarà una bella battaglia però dai vediamo di migliorare, peccato per ieri il primo turno che sono scivolato, nel secondo turno abbiamo rimesso un po' a posto la moto, l'abbiamo riprovata perciò è andata bene. Vediamo la gara poi è sempre a sé, è sempre una battaglia a sé.